Tutto nacque da quel viaggio in India intrapreso nel 1980 da un giovane veronese, Franco Canteri, già insegnante di yoga e meditazione e pioniere dell'Ayurveda. Un viaggio che lo condurrà alla conoscenza profonda e olistica segnando ufficialmente l'inizio di un percorso di vita straordinario e di un progetto imprenditoriale nuovo e coraggioso, portare il sapere e la saggezza orientale nel campo del benessere dell'estetica in Occidente e lo fa nella sua terra, in Lessinia, con il marchio Lakshmi. Lakshmi è un'azienda di cosmetici naturali, biologici e certificati che nasce in Lessinia. Galeotto fu quel viaggio a Nuova Delhi. Come può essere che un'essenza estratta da piante e fiori influenzi la mia fisiologia? È nato durante un corso in India che si chiamava i pionieri dell'Ayurveda e lì facendo delle prove, dei test con degli oli essenziali ci hanno insegnato a sentire il polso, quindi a percepire vata, pitta e kapha e c'era una sinergia di oli essenziali da annusare con una cartina e lì ho sentito che cambiava il polso, cambiava pitta questo elemento in Ayurveda. E lì è nata l'idea di fare dei cosmetici che utilizzando erbe e oli essenziali andassero a bilanciare, a equilibrare la pelle e anche il terreno sottostante. Lakshmi è divenuto nel tempo uno dei più grandi laboratori di prodotti naturali in Europa, con oltre 2 milioni di pezzi prodotti ogni anno e oltre 300 prodotti certificati bioecologici, pensati e concepiti in nome di un binomio inseparabile, bellezza e benessere. Lakshmi è nata nell'89 e poi si è specializzata nell'estetica professionale. Adesso vendiamo in 1500 centri estetici in Italia e abbiamo iniziato anche l'apertura di qualche centro di proprietà. Il primo è partito a Bergamo e stiamo esportando, andiamo all'estero, quindi attualmente abbiamo una ventina di nazioni che stanno importando Lakshmi nel mondo. Un credo e una passione condivisi in famiglia e trasmessi alla nuova generazione. Siamo io e mia moglie e poi c'è mia figlia, la più grande, che ha preso in mano il marketing di Lakshmi e ha preso in mano proprio la gestione completa dell'altro marchio che si chiama Mater Natura, che è un marchio per erboristeria, vendite online, eccetera. Da dove si rinnovano ogni giorno la passione e l'energia indispensabili per portare avanti un progetto così importante in continua crescita? La risposta non sorprende. Io faccio meditazione, naturalmente, faccio yoga, pranayama, eccetera, per centrarmi, perché secondo me le cose devono partire dal cuore, non è che devono partire dalla testa, la testa poi viene dopo, ma se non c'è la passione e l'amore per quello che fai, penso che qualsiasi imprenditore parte dal cuore, quindi è importante ravvivare quello, essere centrati dentro di che ci sia!